E allora riprendiamo la gara perché siamo arrivati alla settima esibizione Canzoni di Panella Minghi con il codice 07 Canta Clara Palmeri con Mietta Quello che sta succedendo sarà forse sì musicale Ma si tratta di noi Ti ricordi di noi Non sono cose che poi Dille musiche fanno e via via Melodie E allora tarataratatatatatatatatatatatat Ti ripeto taratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Nessun posto del mondo, tu ricordati di noi, io non lo so. Nessun posto del mondo, tu ricordati di noi, io non lo so. E allora ti ripeto che si tratta di noi, quello che capita nelle canzoni non può succedere Nessun posto del mondo, tu ricordati di noi, di noi. Nessun posto del mondo, tu ricordati di noi, io non lo so. E a me... Sai che mi importa se l'estate poi se ne va, se tu non lo torna, sai a me, se tu cosa mi fai... Se il cielo è tenso, se un anno è trascorso, se il sole si è aperto così, come fosse un bambino... Sai che mi importa poi... Qui si tratta di noi... Qui si tratta di noi... Qui si tratta di noi... E a proposito di voci potere... No, nel senso che noi in bagno chiacchieriamo... Siete maliziosi, siete maliziosi, perché le donne vanno sempre in coppia, è vero no? Allora...